il piccolo conno rimpara a ululare con la sua nuova famiglia i nativi americani dicono che la canzone del lupo è potente medicina umani e lupi siamo due specie che cantano in gruppo per rafforzare i nostri legami di gruppo e bilanciare le emozioni l'ululato è una vibrazione armonica generata dal diaframma studiare gli ululati dei nostri lupi ci ha permesso di sviluppare trattamenti per cani con squilibri emotivi questa metodologia terapia del suono il team di wolves legacy e i lupi di remember white lavorano insieme per migliorare la qualità della vita dei nostri cani perché wolves legacy è molto più di un semplice nutrimento in wolves legacy e remember white wolf dogs pensiamo all'equilibrio generale dei nostri animali domestici e di noi stessi